Siamo a Salerno in questa bellissima riunione con il caro cameraman che presentiamo i programmi del 2015, i programmi della LIPU. Un avviso per tutti quanti, ci saranno dei corsi gratuiti della LIPU dal 16 gennaio fino al 30 agosto e i corsi sono vari, si va dal corso di giardinaggio, corso di birdwatching, corso di fotografia naturalistica, facciamo anche dei corsi per le mamme per imparare a produrre se stesse dei profumi in casa. Ci sarà un erbolisterista che spiegherà tutte queste iniziative. Poi avremo ad agosto due campi internazionali, campi estivi, uno per i ragazzi e un altro per gli adulti. Ci sarà anche un campo internazionale che parteciperanno tutti i ragazzi che provengono dall'estero e anche i ragazzi italiani potranno gemellare col loro e stare con loro a fare questi bellissimi campi estivi della LIPU. Tutte queste anche informazioni possono essere anche ricercate e trovate sul sito della LIPU nazionale www.lipu.it oppure chiamarmi al mio numero telefonico 338 45 35 651 per tutte altre informazioni. I corsi che si svolgeranno, come dicevo poc'anzi, si svolgeranno nella città di Salerno, presso la sede LIPU. Sono corsi per ragazzi, ma non solo, non mancheranno delle domeniche, delle bellissime escursioni naturalistiche nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano. Andremo a fare due, ci faremo attività di anche giochi per i bambini, giochi a tesoro e tanto altro. Ecco come illustrato già che sono stati distribuiti pochi giorni fa in tutta la città di Salerno questi bellissimi, ecco qua, ecco i volantini della LIPU che ci sono le date, ecco qua, tutte le date delle attività, i corsi, come si svolgono, dove si svolgono. Ecco, possono essere anche ritirati, sempre a titolo gratuiti, presso l'Ex Cinema Capital al Corso Vittoria Emanuale a Salerno, presso l'Ufficio dell'Azienda di Turismo del Comune di Salerno, oppure presso l'Ufficio Informagioni o dell'Arci a Salerno. Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività della LIPU. Ecco, e invito tutti i giovani a venire a parte della LIPU come volontari, che ci sono tante bellissime iniziative da fare insieme. Grazie, a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.